Un ciao a tutti ed eccoci qua per un nuovo episodio della mia campagna con gli Aragonesi L'assedio di Granada prosegue e non c'era più niente da fare perché dovevamo passare il turno Quindi, boh, non c'era niente, no, quindi il prossimo turno assedieremo, non abbiamo più soldi Devo ringraziare solo un attimo Tankredi che mi ha detto di mandare dei mercanti in Africa e in Sicilia Vedo che ci sono risorse preziose, quindi adesso lo faccio Ho già portato qua un mercante che era lassù E lo manderò qui, penso sia questa la risorsa, una di queste due Non lo so, mandiamolo qui così a metà E poi qua stavo già mandando l'assassino a uccidere il francetto che c'era la che commerciava loro E Francesca da Perpignan, Fabregas laggiù Quindi, boh, passiamo il turno e via Ok, finito il turno, la nuova principessa bizantina 168 Concilio dei nobili 8, mi sa che il maestro degli assassini è entrato nel consiglio Annunci di frazione Alfonso di Barcelona Che è scarso però Mandiamolo comunque a Toloso Che non c'era il... Continueremo alle prime luci Il, come si chiama? Non c'è l'i governatore Fine turno Anti-annunci Precettore Maestro di Sicari, lo sapevo La flotta... Dove è finito il mio sidro? Oddio l'umbrecone Meno 30 punti in movimento Ah, quello che deve portare... Arriva dopo domani, vabbè Tenente Tenente ubriacone Ok, questo sta arrivando Facciamo più le mosse Ok E anche questo lo facciamo già muovere Ok Abbiamo fatto tutte le mosse tattiche Soldi non ne abbiamo Quindi non possiamo fare un bel niente Finché non ci togliamo sto assedio che costa E quindi assaltiamo Anche se la guandigione dovrebbe essere abbastanza scarna Anzi, non c'è nessuno Vabbè, vediamo come fare Ok, ecco qua ho fatto lo schieravento Non ho nessuna intenzione Come era prevedibile Di attaccare frontalmente con un ariete Attaccherò con le due torri da sedio E le scale che ho piazzato di là con i balestrieri Sperando che loro siano rinternati qua Io Tanto ho messo una unità di lanceri Di sicurezza Che mi attaccano i balestrieri Li faccio salire sulle mura e via Quindi iniziamo subito Li mandiamo subito qui Di corsa E anche questi li mandiamo subito qua Ok, perfetto Il generale al centro città Come vedo la minimappa E loro sono qua Quindi niente Facciamo avanzare un po' questi Gli altri non li uso Uso solo gli appellidos Che sono Che sono quelli più facilmente rimpiazzabili Facciamo avanzare un po' di più Qua Questi iniziano a lanciare Questi Ai 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 Se ne vanno Mi sa che hanno capito il mio piano Bastardi Laidi Laidi Peccato Guarda Sarebbe stato il posto perfetto Per metterli Perfetto Le mura non resisteranno al valore Alla forza delle armi Questi due sono finiti Vedete Sì sì Hanno capito Laidi Forse avrei dovuto fare il contrario Mettere le torri d'assedio qua E Le scale qua davanti Perché mi sa che hanno visto che Così ce l'ho messo di meno Allora loro vengono a proteggere Potreste anche Le nostre torri d'assedio hanno raggiunto le mura È il momento di fare il lavoro dei macellari Tranquillo Ma qui si stanno tirando Non beccate Non beccate solo i miei Questi cosa vogliono salire con le mura Mettiamoli tutti lì così C'è spazio per gli altri Presto 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 Stanno salendo tutte Si sono salite Forza 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 Di là proprio me ne sono sbattuti Di quello che stanno facendo Tanto ormai Direi che l'assedio va così Noi non mi potete mettere lì come dei piccioni Almeno salite Andate ad uccidermi questi Fate qualcosa Ah infatti Ah no si sono messo in formazione All'arriata Vabbè Vabbè il generale almeno se ne va Eh loro attaccano Lai di schifosi Lai di Attaccateli Forse era meglio Se questi li facevo salire dall'altra parte Oh cazzo Adesso questi dovrebbero salire Stanno dando nelle scale Dentro la torretta Se le danno Oddio no vanno qui Dove cazzo stanno andando questi Oh no 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 Questi sono forti Ok sono andati i miei Quindi sennò Boh non sono nemmeno scherzi nel corpo a corpo Dai Non è saggio giudicare un giorno prima del nuovo Ma oggi i nostri stanno ottenendo una splendida vittoria Non giudico niente Intanto i nostri sono saliti Io non li faccio scendere così Questi sono andati i rotori Guardate Stanno salendo da tutte le parti Sulle mure Perfetto Sono riuscito a tamponare bene Ok perfetto Adesso questi li Tartassiamo Ok direi che ci siamo Ci sono messi le tue in posizione Morto Perfetto Si erano messi anche in posa È stata anche una buona tattica Dai Mi è piaciuto questo assedio Dai l'ultimo Uccidetelo Oddio Morto C'è rimasto qualcuno Questa è una vittoria lampante Conquistata da uomini No con grande tattica questa Ci voleva poco per capirlo di far così però 13 uomini perduti Penso che forse nemmeno il pc avrebbe fatto meglio Una vittoria sommamente onore Ok vinto Occupiamo Il signore ci ha concesso la vittoria Beh potremmo mancare anche le miniere poi Bene bene Bella città Mi piace questo Via nada Ok Possiamo tornare a essere un po' più Con buone finanze Ah già Questo qua La spia Una spia Infatti mi provo di avere una spia Perché carta Lo riconduci questo personaggio Per sua tua capitale Io lo riconduco subito Questo non può andare oltre Questo mi serve qua per controllare Quando questi fetusi Moreranno verso Ice 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 E intanto qua Un'altra città Un'altra città è nostra Andiamo avanti Ma cosa vuoi fare Questo qui E questo lo lasciamo qua invece a convertire Perché è solo il 38% Non vorrei avere problemi di rivolte O cose strane E poi c'è questo Lo mandiamo qui Dai su Questo forse è quello che ce n'ha di più Questo qua lo voglio regalare ai castigliani Se non mi attaccano prima Io direi che adesso Divido l'esercito in due parti Tanto guardate Sono tutte sguarnite C'è anche un pistola Sono poi cavalieri Di nuovo Quindi faccio la stessa tattica di prima Usa la stessa tattica di prima Vincente Via Oltre a tutto qua Abbiamo reclutato anche Un altro Socio Altre aceri Oddio no Ma dai Questi avevano dei soldati E li hanno tenuti lì Ma sono svegli mi dico Vabbè Cavoli loro Cioè sinceramente Io sono contento così Cosa possiamo fare Eclutiamo Altri lanceri Ah no Prossimo turno Per la costruzione 3 4 C'è anche le balestre Le Le catapulte Vediamo cosa fare Allora Reclutiamo questi va Così la finiamo lì Tanto Il prossimo turno Dovevi avere più soldi Quindi La reconquista È ufficialmente incominciata Passiamo il turno Ok 8 seggi Tecnologia acquistata Il nostro udito Innovazioni moderne È tornato presso il nostro capitale Con tutte Le nozioni necessarie Finché i nostri artigiani Presto Ok Carta Abbiamo la carta Perfetto Con una pece vegetale Boh Però io non vedo niente Per costruire la carta E lui ce l'ha ancora Boh Però mi ha detto che l'ho fatta Quindi Io lo rimando qua Ma perché? Per quale motivo? Solo perché ti invasano Cosa ti ho fatto? Così sono Due unità di cavallerie Faccio un bello sconto frontale Contra la cavalleria Io È un onore servito Sì Che questo gli mando Sì Sì Marciamo Esordiente Può iniziare Ok Questi due qui E io adesso inizio a reclutare Ho visto che di là C'è poca gente Io inizio a reclutare qua qualcuno E qua Mi puzzano sempre Francesi e Gli altri mi puzzano Un po' più di marcio Allora qua Cosa facciamo? Siamo due cavallerie Facciamo una bella cosa Solo cavaliere Facciamo così Andiamo in generale Questo e questo Contra questo Contra questo Siamo intenti Potrei anche tagliare Questa non la ritrovo Dai Resolviamola 32 uomini persi Minchia Giustizia No Ciao Sì scusa Non potete entrare Lo ringraziamo Per questa vittoria Entrano solo Lì c'è un altro esercito Abbandoniamo l'armata Signore Potrei anche battere il ferro Finché caldo E attaccare subito quelli Boh Vediamo Aspetta Fai gli far tappa qua Massiva Però questo non può muovere Ah sì ci arriva Anche questo Questo Non mando troppe truppe Faccio la stessa tattica di prima Andiamo No Tu Tu Vostra maestà Comandate Vostra maestà Ordini Sì Pagliotasto Ordini Comandate Vostra maestà Queste due che sono già un po' andate Sì Vostra maestà Te Ordini Ordini Signore Ma poi Sì ma andiamo qua Io non ho guardato nessuna fantasia Comandate Ma che sfiga Non ci arriva Pensavo ci arrivasse E questo lo lasciamo qua In guarniglione Ok Direi che La situazione procede abbastanza bene Mujiaidin No Non sono i Mujiaidin Però Ok Allora qua dobbiamo andare Il nostro Assassino E praticamente Al massimo Ma certo 55% Vai Dai Il prossimo turno Anche quello Ma Sei proprio un ebreo Questo si impialla sempre Anche se è un mercante Non c'è una mappa Ok Vediamo che soldi Ce ne sono più pochi Quindi Passiamo di nuovo Il turno Ok La nuova principessa Lusitana 169 8 seggi 100 Missione compiuta Il papa Bravo Spero che almeno Non rompi il cazzo Produzione e finanze Stiamo crollati Ma era normale Fine della nobile vita Ah quello che era in Congo Vabbè Pace all'anima sua Questo è diventato Conte di Savoia Di Scusate Di Tolosa Non è uno più in comando No Più uno fedeltà Più dieci commercio Vabbè Ok Raccontiamo qualcosa qui Perché Mi puzzano I Spagnoli Finché non riesco a prendere questo E regalargliela Sì sì Mercato a Valenza Questo vuol dire solo una cosa Nuovo mercante Tra un pari di turni Proposito di mercanti Ok Un attimo Solo che mi suona il telefono Rieccomi Pronti per assassinarlo Quindi uccidiamolo Dai Accoppalo Bello E i francesi hanno Meno soldini Quindi tu Tra due turni Il problema Tu passa di qua Ecco Pochi trovi Ok Perfetto Andiamo qui Accoppiamo Un castigliano Sti qua Li uccidiamo tutti Non ci facciamo scrupoli Noi Oh Lì ci sono delle portoghese Alleanza Ciucciamelo Non puoi sposarti Con Con delle principesse Se non Non sei alleato Quindi finchè io non divento alleato Non posso sposarmele Nobile si Facciamo la stessa cosa di prima Ci scontreremo Ci scontreremo con loro Con onore Mio signore Senza indugio Cominceremo L'assedio Ma Non la facciamo solo Le scarpe Tanto qui hanno Ah qui ci sono Balestrieri Bastardi Hanno dei cavalieri Balestrieri Laidi No Portoghese Non ha capito più niente E' una flotta Non mi fai paura Uh Lì mi sta mica Non me l'avevo neanche accorto Le avevo già Uccisi prima Questi Vittorio Anette Muori Stranzone Abbiamo vinto Quindi torno al Cipur Pura Pura Mi spiegano L'utilità di tenere Quelle truppe lì Questo c'ha la gente Quindi tu E ora che Sbarchi Eh Anche perché fa un po' Cava di zolfo Eh quella di Lupo Rosso Malpele 540 Bisanti Buono Questo quant'è? 400 Buono vai E poi Bravo Così mi piace Più uno comando in mare Più uno difesa in mare Buono Direi che al prossimo turno questi qua mi hanno stufato Infedere torna indietro Infedere C'è nessuno voglia di perdere soldati così Intanto stiamo convertendo Anche qua E quindi ok Basta dai Direi che la reconquista è ufficialmente iniziata Taglio questo video Cioè concludo qua il video perché sennò Diventa davvero troppo lungo Il prossimo turno prendiamo Cordoba Uccidiamo questa unità qua E Prendiamo questo castello che lo regalò agli spagnoli per farmi i propri amici e amici E poi basta dire che il resto è fatto Quindi un saluto e alla prossima Ciao ciao Ciao